Ristorante Pizzeria Pantagruel a Castel Belforte e Mantova vi propone la cucina stupe con le specialità bavaresi e 130 tipi di pizze pantagrueliche con pasta di farina tradizionale, integrali alla soia, alca, muta e cereali, alla canapa, all'avena, al farro e black pizza al carbone vegetale attivo Pantagruel, via Boselli 26, Castel Belforte e Mantova, chiuso il martedì